se vuoi vendere casa in tempi record io dovrei vendere casa non affidarti ai primati mamma mia è ora di evolversi sono bruno di vali immobiliare farò un video di alta qualità del tuo immobile lo metterò in vetrina su tutti i social e venderò la tua casa prima è meglio affidati ai video agenti immobiliari chiamami